Ben trovati a tutti i follower di AndroidWorld.it Un saluto da Ciso Oggi vi facciamo vedere una interessantissima applicazione Per chi frequenta il mondo musicale, ancora meglio la musica elettronica Si chiama Groovebox RD3 E richiama Sintetizzatori e Drum Machine 303 Probabilmente è un nome che suona conosciuto a molti musicisti Abbiamo un mixer con dei livelli, con delle impostazioni abbastanza standard Quindi Baseline, Distortion e Beat La velocità in BPM e il tasto per avviare Possiamo creare 4 pattern di bassi Che poi in realtà è proprio un sintetizzatore Quindi possiamo anche utilizzarlo come sintetizzatore E 4 di Beat Andiamo a vedere Questo è la Drum Machine Proviamo per esempio a creare una cosa semplice Facciamo partire Creiamo qualcosa di leggermente diverso Facciamo partire Ok Possiamo come avete visto anche da quell'altra schermata di Beat Modificare Modificare In modo molto semplice E Come potete vedere funziona anche in multi-touch Molto molto interessante Quindi poi possiamo ovviamente Questi sono i due volumi Di due canali Intesi come Baseline e Beats Fermiamo un attimo Andiamo un attimo a vedere Carichiamo per esempio La canzone demo Veramente un giochino Tra virgolette Molto interessante Per chi Per chi amera questo genere di Di sperimentazioni O anche soltanto in questo caso Un gioco Come abbiamo appena detto Speriamo magari Che nella prossima versione Qui ci sarebbe benissimo Lo spazio Per raggiungere un altro sintetizzatore Per poter magari differenziare Un vero sintetizzatore Da Una Baseline Un saluto a tutti Da Ciso Di AndroidWorld Punto it